Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Eugene Victor Britt nasce a Gary, in Indiana, il 4 novembre 1957. Era il secondo di sei fratelli nati dalla stessa madre e padre. Il nome del padre di Eugene è Elmer K. Britt Senior. Il nome di sua madre è Darwin Britt. Eugene ha tre giovani sorelle, Elizabeth Brenda, Joyce Britt e Darwin Joan Britt. Darwin Joan ha preso il nome da sua madre. Aveva anche tre fratelli maggiori nati da sua madre, ma da tre padri diversi. Elmer, il padre di Eugene, ha 22 anni quando viene arrestato per aver ucciso una donna a Gary, in Indiana, nel 1951. Più precisamente investe un'infermiera, la signora Rose Martha Pruss, di 37 anni. Al posto di fermarsi e prestare soccorso, scappa andando a sbattere contro altre auto, ma un ufficiale di pattuglia lo nota e quindi lo insegue. L'inseguimento si conclude con Elmer che scende dal veicolo e inizia a scappare a piedi sul prato di una biblioteca. Ovviamente viene arrestato e al momento del rilascio, Elmer diventa un operaio siderurgico. A questo punto l'uomo inizia ad avere dei buoni guadagni per la famiglia, ma il passato di Elmer influenza profondamente il suo stile genitoriale. Elmer ha la costante abitudine di tradire sua moglie Darwin con delle donne diverse. Eugene entra nella camera da letto di sua madre a 5 anni, scoprendola a letto con un altro uomo che non era suo padre. La donna, sconvolta dall'intrusione del figlio, lo scaccia violentemente fuori dalla stanza. Poi cerca di convincere il bambino a non parlarne, dandogli parecchi dolcetti. Eugene cresce in una famiglia in cui la parola violenza è all'ordine del giorno. Entrambi i genitori bevono tantissimo, sono alcolizzati. Elmer inoltre picchia quotidianamente sia i figli che la moglie. I bambini inoltre spesso vengono costretti ad assistere a Elmer, che fa violenza intima a loro madre. In un'occasione, Eugene si nasconde nell'armaglio della camera da letto dei genitori e assiste a un episodio molto violento. Suo padre picchia sua madre senza pietà, con calci e pugni. Poi la lega a letto e le fa violenza in modo molto molto feroce. Eugene, crescendo, si nasconde sempre più spesso nell'armaglio della camera dei suoi genitori, col fine di vedere suo padre picchiare sua madre. Durante questi eventi, ora il ragazzo si tocca intimamente. Trova quindi eccitante la violenza. Il rapporto di Eugene con le sorelle è anche in questo caso viziato, perché hanno dei rapporti intimi anche tra di loro. Durante l'adolescenza i genitori li sorprendono molto spesso e dunque li puniscono, picchiandoli con grosse prolunghe elettriche. Le percosse tuttavia non portano Eugene e le sorelle a smettere. Mentre cresce, risulta chiaro che Eugene è impreparato ad affrontare una vita indipendente da adulto. Non ha denaro, dunque non può mantenere una casa, fare la spesa per nutrirsi, prendersi cura della sua salute mentale e tenersi fuori da situazioni pericolose. Elmer, il padre di Eugene, lo rifiuta praticamente per tutta la vita. Si lamenta del fatto che Eugene non somiglia affatto ai suoi figli. Gli altri figli, in effetti, secondo Elmer, sono belli e intelligenti. A differenza di Eugene, tutti riescono a frequentare delle ragazze, ma Eugene no. Insomma, Elmer gli ripete costantemente che nella vita non avrebbe mai combinato niente. Ovviamente questo rifiuto da parte di suo padre fa soffrire Eugene. Inoltre il quartiere dove risiede la famiglia sta davvero peggiorando di giorno in giorno. Sono letteralmente circondati da persone che vendono delle sostanze, negozi di liquori e baracche. Quindi per Eugene il mondo è terribile. Sia quello fuori casa che quello dentro casa. Ci sono parecchie persone ubriache senza fissa dimora che si aggirano per le strade e rompendo negli edifici, facendo violenza intima e accoltellando persone quotidianamente. Crescere dei figli in un ambiente simile è già di per sé molto difficile. Se poi ci aggiungiamo i problemi interni alla famiglia, non se ne esce più. In ogni caso è chiaro che Eugene viene influenzato da ciò che vive a casa. Quindi accosta l'intimità alla violenza. Alla fine quando Eugene ha circa 15 anni decide di scappare di casa. A questo punto inizia ad assumere parecchie sostanze e a bere abbondantemente. La sua maturità è pari a quella di un bambino di 10 anni. Ha bisogno di aiuto per cercare un numero telefonico nella rubrica. Non sa compilare un assegno o un vaglia postale. Non è in grado di creare relazioni strette, romantiche. Non si innamora mai. Sebbene Eugene avesse problemi con le relazioni, non aveva problemi ad avere rapporti intimi. Non passa molto tempo prima che il giovane inizia ad esprimere i suoi desideri più negativi nella vita reale. Teniamo presente che tutto quello che conosce è la violenza. Così inizia effettivamente ad avere diversi rapporti intimi con delle donne. Fino a quando ne incontra una che non vuole avere nulla a che fare con lui. Eugene, però, non trova concepibile che una donna possa rifiutarlo, quindi si arrabbia e alla fine fa violenza su di lei. Arriviamo alla metà degli anni 70, quando Eugene trova una casa dove stare. È la dimora di una donna di nome Shelley Hall. La donna è una spogliarellista e fa anche la magnaccia. Ha almeno 13 passeggiatrici che lavorano per lei. Inoltre questa donna è solita anche vendere sostanze nel suo appartamento. Eugene ha una relazione intima con questa donna e continua a stare con lei dai 15 anni fino ai 20. L'ambiente all'interno della casa di Shelley è tutt'altro che stabile. Infatti Eugene va in giro per la città col fine di commettere violenze intime. Più grave è l'atto di violenza, più la sua soddisfazione si protrae nel tempo. Eugene commette dozzine di violenze intime, per le quali non viene mai catturato. Eppure il ragazzo parlerà di un incidente particolare. Un giorno Eugene era parecchio arrabbiato, quindi trova una donna, la porta in una casa abbandonata vicina con la forza, per poi andare nel seminterrato. A quel punto Eugene la spoglia e fa violenza su di lei brutalmente. Eppure questa donna rimane calma per tutto il tempo, quindi la rabbia di Eugene pian piano si spegne. Secondo Eugene quindi la violenza intima si trasforma in un rapporto consensuale. Al termine dell'atto la donna continua a trattarlo con calma e gentilezza ed Eugene è convinto di provare amore per lei. I due si baciano e si abbracciano come una coppia. Poi iniziano a passeggiare. La donna quindi riesce a condurre Eugene in giro per il quartiere, finché si ritrovano a camminare lungo un vicolo. La donna a questo punto gli indica dove vive e dice all'uomo che vuole fargli conoscere la sua famiglia. Eugene a questo punto è convinto di avere una ragazza e forse pensando di ottenere il rispetto di suo padre accetta di entrare in casa della donna. Il punto è che Eugene non ha rapporti con suo padre ormai da anni. Passano pochi minuti. La coppia non è ancora salita in casa quando i membri della famiglia della donna si riversano fuori casa. Entrano nel vicolo armati di coltelli e mazze. La donna dunque che fa indica Eugene che ovviamente si dà la fuga. Il ragazzo riesce a evitare per un pelo il feroce pestaggio che stava per subire dai familiari della ragazza. Finisce in una zona abbandonata. È a questo punto che si rende conto di essere stato preso in giro. Quindi è molto frustrato, disperato e deluso. In ogni caso la sua dipendenza intima lo porta a leggere una quantità enorme di materiale a luci rosse. Più la rabbia lo consuma, più le sue fantasie contorte si manifestano nella sua mente. Nel 1975 Eugene non tiene il suo primo lavoro in una stazione di servizio di Clark. Ora ha 17 anni. Tutto ciò che guadagna lo spende per comprare altro materiale a luci rosse. Il 20 aprile 1978 sta camminando a Gary nei pressi di un'unità abitativa. Una giovane ragazza cammina verso di lui con addosso un abito estivo. Mentre i due si incrociano, l'uomo si volta di scatto, si mette dietro la ragazza, allunga la mano e la afferra per la gola. Questo, di base, è il suo modus operandi. Spesso Eugene soffoca le sue vittime finché non perdono conoscenza. Quindi le rianima e rincomincia a fare violenza su di loro. Lo stesso vale per questa ragazza che sta per aggredire. Infatti le mette un braccio intorno al collo e una mano sulla bocca. Nessuno le vede. Muovendosi in fretta Eugene la tira a terra e la trascena in un campo. La prende a pugni. Chiaramente la ragazza prova di vincolarsi e questo fa solo arrabbiare Eugene ancora di più. Infatti arriva a urlare Non guardarmi! O ti strappo gli occhi! La ragazza a questo punto si ammutulisce. Lui le strappa i vestiti di dosso, ma continua a picchiarla. Arriva a farle così male che la ragazza non può far altro che subire il me. L'uomo a questo punto fa violenza su di lei ripetutamente. Poi le sfila un anello d'oro dal dito e scappa. La ragazza chiaramente va alla polizia, ma non riescono a identificarlo. Passano circa dieci giorni. È il 9 maggio del 1978. La vittima che aveva subito violenza è con degli amici in una stazione di servizio di Clark. Un inserviente si avvicina alla loro macchina. E quell'inserviente è proprio Eugene. La ragazza, chiariamo, non lo riconosce guardandolo, ma nota che ha al mignolo il suo anello, quello che lui le aveva rubato. Chiama dunque la polizia che circonda la stazione di servizio in un lampo. L'uomo viene accusato di violenza intima e rapina. Ma lo Stato aspetta fino al compimento dei 21 anni per procedere. Dunque, Eugene, raggiunti i 21 anni, subisce un processo e viene dichiarato colpevole. Viene quindi condannato a 35 anni di prigione. Tuttavia la prigione di certo non lo rende una persona migliore. Conversa e stringe amicizia con predatori che hanno commesso atti indicibili. Quindi gli impulsi intimi non vengono smorzati assolutamente dal periodo di prigionia. Anzi, ha sicuramente avuto rapporti intimi consensuali, ma soprattutto ha fatto violenza su altri detenuti. Eugene, tra l'altro, non è gay. Ma la sua rabbia alimenta il suo bisogno di avere il controllo. In un ambiente in cui il controllo effettivamente manca, per certi versi. Eugene, dunque, rimane per tutti gli anni Ottanta in carcere, esce nell'agosto del 1993, a 35 anni. Il punto è che l'uomo non si è riabilitato. Infatti è più pericoloso di quando era entrato in carcere. Quando l'uomo viene rilasciato dopo un anno di libertà vigilata, torna a perseguitare e a fare violenza sulle donne. Di base insegue le sue vittime, le afferra spesso per la gola e le trascina in luoghi isolati. Eugene a questo punto è chiaro che abbia dei seri limiti mentali, perché può trovare un lavoro, ma non capisce perché mai dovrebbe andare a lavoro. Inizialmente ottiene un lavoro come custode presso un complesso di appartamenti che si trova a Gary. In questo lavoro, tra l'altro, per lui c'è un vantaggio non da poco. Può avere un appartamento anche lui, quindi finalmente riesce a stabilirsi in una casa solo sua. Per 16 mesi Eugene vive in questo appartamento ed è sempre puntuale con l'affitto. Fino a quando non smette di lavorare come custode. Infatti successivamente trova un lavoro in un autolavaggio, dove lavora fino al 1994. Successivamente lavora come custode presso un tratto di autostrada nell'Indiana. Alla fine Eugene decide di trasferirsi a Victory Arms e si impegna per non perdere quest'ultimo lavoro, anche se spesso arriva in ritardo. Non è nuoto se l'uomo sappia guidare, non ha mai provato a prendere la patente di guida e ha bisogno di aiuto per capire come si prendono i mezzi pubblici. Infatti per andare e tornare dal lavoro si sposta con una bici blu, a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Sembra che tutto sia destinato a rimanere immobile e invece qualcosa cambia, almeno in Eugene. Siamo nella primavera del 1995, quando Eugene vede una donna che si chiama Maxine Walker, che sta camminando da sola e che soprattutto non l'ha ancora notato. Dopo averla superata abbandona la bicicletta e appare davanti a lei respirando affannosamente. Ma questa donna non ci fa caso, o almeno finge di non farci caso, proseguendo per la sua strada. Così l'uomo sale di nuovo sulla bici e si riavvicina a Maxine. Quando riesce a raggiungerla le parla chiedendole dove stia andando. La donna di nuovo cerca di ignorarlo, così Eugene la ferra per il collo e la trascena in un luogo appartato, fuori strada. Come con tutte le altre vittime inizia a picchiarla brutalmente, ma Maxine si dimostra ben più tenace delle sue vecchie vittime. Non si arrende, continua di vincolarsi e questo, come al solito, fa montare la rabbia dell'uomo. Quindi sceglie di seguire il consiglio che gli avevano dato proprio dei detenuti durante il suo periodo di prigionia. È necessario uccidere quella donna. Così le mette le mani al collo e stringe più forte che può, fino a farle perdere i sensi. Fa violenza su di lei fino a quando la donna si riprende del tutto. È a quel punto che le cinge nuovamente le mani attorno al collo per ucciderla. Sposta i suoi vestiti e anche il suo corpo senza vita in un posto che crede sia più appartato, fa di nuovo cose col corpo. Torna alla sua bicicletta e se ne va a lavorare, come se nulla fosse. Il corpo di Maxine non verrà ritrovato fino al dicembre del 1995. Nel mese di maggio Eugene compie altri tre omicidi. Un corpo appartiene a una ragazza non identificata, trovata sotto un cavalcavia. Un'altra vittima si chiama Arlinda Lois Smith, di 46 anni. Inoltre il corpo di Sarah Catherine Snilgrove Harrington, di 34 anni, viene trovato in una zona boscosa. Il 12 giugno 1995 la madre di Nakita Moore, una ragazzina di 15 anni, denuncia la sua scomparsa. Viene ritrovata il 24 giugno del 1995 in un campo. Il suo corpo è parzialmente decomposizione. Addosso ha solo un calzino. I suoi vestiti vengono successivamente ritrovati in un edificio abbandonato, accanto a dove è stato rinvenuto il corpo. Nakita è morta per strangolamento. Il 17 luglio 1995 la famiglia e gli amici vedono Deborah McCenry per l'ultima volta, tra le 20 e le 22. Il 18 luglio 1995 il corpo di Deborah viene ritrovato tra le braccia dietro un garage. Viene trovata proprio dal proprietario di casa, afferita al collo e alla testa. È stata picchiata e infine soffocata. Inoltre, nello stesso giorno, Tonya Dunlop viene vista l'ultima volta dalla sua famiglia a Damond. La quindicenne Janice White viene dichiarata scomparsa il giorno del suo compleanno, ossia il 7 agosto del 1995 alle 18.30, mezz'ora dopo aver spento le candeline sulla sua torta di compleanno. Ha una difficoltà di apprendimento e l'ultima volta che viene vista è in sella alla sua bici rosa e viola. L'8 agosto del 1995 la polizia cerca Janice nei pressi di casa sua, verso ovest. E in effetti viene trovata senza vita circa 3 km da casa sua dai suoi fratelli che conducono da soli le ricerche. E in effetti viene trovata senza vita circa 3 km da casa sua dai suoi fratelli che conducono da soli le ricerche. E a faccia in giù ha ricevuto parecchie percosse, ma soprattutto sulla sua biancheria intima viene rilevato del DNA. Durante la mattina del 13 agosto 1995 Michelle Lynette Burns, di 27 anni, viene trovata senza vita, morta per strangolamento. Lei è una passeggiatrice, indossa dei pantaloncini di jeans, una camicia a maniche corte bianca e nera e delle scarpe da ginnastica color acqua. Arriviamo alla mattina del 22 agosto 1995 quando Sarah Lynn Paulson, di 8 anni, sta pedalando sulla sua bicicletta nel parcheggio di una chiesa a Portage. Un'ora dopo viene trovata senza vestiti, a faccia in giù, in una vicina area boschiva da un passante che porta a spasso il cane. Il corpo senza vita di Sarah viene trovato sotto un albero, i suoi sandali e la sua bicicletta vengono ritrovati nelle vicinanze. Arriviamo al 1 settembre 1995, Betty Askew è nella sua macchina e sta osservando il suo cortile di casa. In quel momento Eugene appare dal nulla, spaventandola. Le chiede tipo, hey, come va? Betty non risponde all'uomo, anzi, si allarma, cerca di allontanarsi da lui, ma ormai è troppo tardi. Il fratello di Betty, Albert, presenta una denuncia di persona scomparsa al dipartimento di polizia, in quanto la donna non si è presentata a lavoro. Suo fratello trova la porta di casa sua sul retro, spalancata, con le luci ancora accese. Preoccupato, il fratello decide di dare un'occhiata nei lotti abbandonati dell'isolato e così scopre il suo corpo senza vita. Il corpo di Betty viene trovato in stato di decomposizione, in un cortile abbandonato, a poca distanza da casa sua. I suoi vestiti si trovano vicini al suo corpo, il suo reggiseno è tirato fin sopra la testa. Tra il maggio e il settembre del 1995, dunque, più di una dozzina di donne e ragazze vengono trovate senza vita per strangolamento. Sono tutte vittime di violenza intima. Importante da dire, secondo me, le vittime sono principalmente nere e sono state uccise con dei modus operandi praticamente identici. Insomma, è ormai chiaro che questi omicidi siano opera di un serial. Tuttavia, la polizia di Gary non prende in considerazione questa ipotesi. Infatti, spesso il sindaco e la polizia sono stati interrogati sulla possibilità che ci sia un serial in libertà. Ma hanno respinto tutte queste ipotesi concludendo che non c'erano prove che gli omicidi fossero riconducibili alla mano di una sola persona. C'è da dire che il dipartimento di polizia era oberato di lavoro e a corto di personale. Ma è anche vero che ci è voluta una bambina bianca, senza vita, di otto anni, per smuovere la situazione. Torniamo infatti a parlare dell'assassinio di Sarah Paulsen. Eugene non ha mai parlato nel dettaglio e pubblicamente di ciò che ha fatto alla piccola Sarah il 22 agosto del 1995. Quel giorno l'uomo stava lavorando da Hardy, una catena di fast food statunitense. Una manager, ossia la signora Hubbard, viene a sapere della sua condanna del 1978, quindi lo manda a casa licenziandolo. Eugene se ne va dal locale, ma mica torna a casa. Vaga in bicicletta senza meta per poi tornare nel parcheggio del fast food in cui lavorava poco prima. Alla fine la manager ha chiesto a una guardia di sicurezza di cacciarlo dalla proprietà. Quindi questa guardia esce dal fast food e gli ordina di allontanarsi. Sono circa le 11 del mattino quando Eugene, in effetti, si allontana sempre in sella alla sua bicicletta. Undici minuti dopo, mentre Eugene si allontana in bicicletta con la sua maglia verde di Hardy, passa davanti ad una chiesa e nota una bambina in sella a una bicicletta rosa e viola, proprio nel parcheggio. Quella bambina era proprio Sarah. La casa di Sarah era proprio di fronte alla chiesa. Sia suo padre che sua madre in quel momento erano a lavoro, quindi veniva tenuta d'occhio dai suoi fratelli maggiori. I fratelli per un po' stanno fuori, la tingono d'occhio, però alla fine rientrano in casa lasciando Sarah giocare al parcheggio della chiesa. Chiariamo, Eugene non sa che Sarah aveva dei fratelli né che fosse estremamente vicina a casa. Viene visto mentre si allontana con la bambina verso una zona buschiva proprio dietro alla chiesa. La sua uniforme di Hardy non passa certo inosservata. Eugene sostiene di aver convinto la ragazza a seguirlo nel bosco. Una volta nascosti le mette le mani addosso, dice a Sarah di non dire niente. La piccola invece urla. Eugene di conseguenza come al solito si arrabbia e la uccide. Viene infatti visto pochi minuti dopo lasciare il parcheggio della chiesa in sella alla sua bicicletta, come se nulla fosse. Considerate che il corpo di Sarah viene ritrovato entro un'ora dalla sua morte. L'omicidio della piccola Sarah spaventa a morte gli abitanti di Portage, che si trova a circa 15 minuti di macchina da Gary. I residenti temono che un serial di bambini sia libero di vagare proprio nella loro città, anche se non ci sono realmente prove a sostegno di tale affermazione. Nessuno sospetta che l'omicidio di Sarah sia collegato alla stessa persona che aveva ucciso altre donne a Gary. Eppure Eugene è stato individuato. Chi l'ha visto ha fornito la sua descrizione alla polizia, che agisce immediatamente. Nel frattempo la città di Portage si impegna a sostenere la famiglia di Sarah. I ristoranti iniziano a raccogliere fondi per la famiglia, i vicini organizzano delle veglie a lume di candela. L'omicidio di Sarah provoca un'intensa reazione emotiva. Gli abitanti si radunano tutti attorno alla scena del crimine portando i propri figli. Gli spiegano che non devono parlare con degli sconosciuti perché è pericoloso. La guardia di sicurezza e il manager di Hardys vengono a sapere dell'omicidio della piccola Sarah. Pensano immediatamente a Eugene, che avevano cacciato poco tempo prima che avvenisse il delitto. Così la signora Hubbard chiama la polizia. È a questo punto che la polizia viene a conoscenza delle uniformi di Hardy di colore verde. Così apprendono tutte le informazioni che la signora Hubbard può dargli per poi contattare la polizia di Gary. Concludono che l'uomo deve essere sorvegliato. Ma Eugene non ha una dimora fissa, è un senzatetto. Almeno lo è in questo momento. Dopo l'omicidio di Sarah si trasferisce in un rifugio per senzatetto, diretto da un reverendo di nome Clyde Smith. Questo rifugio si trova a 600 metri dalla casa di una delle sue prossime vittime. Forse l'ultima. Ve ne ho già parlato. Sto parlando di Betty Eskew. Mentre al rifugio Eugene ascolta musica gospel e legge la Bibbia. Fa amicizia col reverendo anche, così inizia a confessargli i suoi crimini. Parla delle violenze che ha fatto prima di finire in prigione. Il reverendo, però, vede Eugene come un uomo compassionevole, anche se di poche parole. Quindi non crede che l'uomo possa aver davvero fatto violenza intima su così tante donne. Tuttavia Eugene inizia a nutrire dei sensi di colpa. La prima settimana di settembre la polizia interroga Eugene. Gli chiedono dove si trovasse il giorno in cui Sarah è stata assassinata. Arriviamo al 14 settembre, quando Eugene beve tantissimo, fuma tantissimo e prende una manciata di sonniferi. Poi si imbatte in una casa abbandonata e dopo esserci entrato, raccoglie un filo metallico che trova a terra, formando un cappio. Se lo avvolge intorno al collo e prova a togliersi la vita. Alla fine, però, il metallo non regge il suo peso, dunque Eugene sviene. Non muore. Dopo qualche ora si risveglia, vomita ed esce dalla casa. Inizia a vagare senza meta finché non nota che è vicino a delle rotaie, in cui presto sarebbe passato un treno merci. Così, mentre il treno si avvicina, lui gli salta davanti. Ma al posto di essere travolto, Eugene perde l'equilibrio e cade all'indietro. Si ritrova con la gamba destra totalmente squarciata. Il treno chiaramente si ferma immediatamente per controllare cosa sia successo e come stia Eugene. Ma, dato che non riescono a trovarlo, contattano la polizia. Eugene sta strisciando verso un recinto vicino. È sul punto di scavalcarlo, ma rimane incastrato. È proprio in quel momento che la polizia arriva, ben tredici agenti scendono dalle auto e gli puntano contro una pistola. Gli ordinano di scendere dal recinto, ma Eugene sviene per lo shock. Quindi viene portato all'ospedale di Gary, dove viene medicato. Tuttavia, questo incidente lo porta a dover usare le stampelle per il resto della sua vita. Quando esce dall'ospedale, va a casa di sua sorella, Darwin Britt. La donna, dopo aver visto Eugene, inizia a fargli delle domande. Come si è ferito? Eugene, però, non è ben disposto a parlare. Quindi, tra lui e sua sorella, scoppia un letigio. La situazione si fa evidentemente problematica, perché a questo punto è sua sorella che chiama la polizia. Così Eugene scappa di nuovo per poi tornare al rifugio, per il senza tetto, dove rincomincia a confidarsi con il reverendo. La polizia, però, nel frattempo arriva a casa di sua sorella, la interroga, e la donna consegna loro la maglietta di Hardy, indossata da Eugene, dato che si era cambiato lasciandola lì. Eugene, a questo punto, inizia a confessare realmente, in parte, ciò che ha fatto negli anni al reverendo. A questo punto, i volontari del rifugio notano che Eugene ferisce le persone quando è arrabbiato. Solitamente ha un comportamento tranquillo, è educato, ma ha una rabbia dentro molto facile da innescare. La polizia di Portage, nel frattempo, è sulle tracce di Eugene, proprio per l'incidente avvenuto col treno. Finalmente iniziano a condividere le informazioni che hanno a disposizione su Eugene con la polizia di Gary. Finalmente, quindi, iniziano a sorvegliarlo, mentre ancora ha rifugio per il senzatetto. Il reverendo chiede a Eugene se ha qualcosa a che fare con il caso di Sarah, se sta per caso scappando dalla polizia, ma l'uomo nega. Il reverendo inizia a nutrire seri dubbi su Eugene, ma si aggrappa alla speranza che la sua organizzazione non stia ospitando un assassino. All'inizio del mese di novembre, la polizia è pronta a intervenire e arrestare Eugene. Il 4 novembre, giorno del suo 38esimo compleanno, la polizia di Portage e di Gary fa irruzione nel rifugio gestito dal reverendo Smith. Arrestano l'uomo per l'omicidio e la violenza intima fatta su Sarah. Eugene neanche si oppone all'arresto. La piccola Sarah ha in qualche modo aiutato la polizia a catturare il suo assassino. La ragazzina, infatti, aveva afferrato la maglietta di Eugene, che, vi ricordo, era l'uniforme che indossava a lavoro. Quando Eugene era andato da sua sorella, aveva lasciato lì la maglietta. Quindi la donna l'ha consegnata alla polizia. Delle fibre di quella stessa maglietta sono state trovate proprio sotto le unghie della piccola durante l'autopsia. Successivamente, grazie a Dio, emerge anche la prova del DNA. Molte vittime di Eugene avevano proprio il suo DNA, soprattutto sulla biancheria intima. Durante l'interrogatorio con la polizia di Portage, Eugene confessa l'omicidio di Sarah. Il punto è che non si ferma. Arriva a parlare addirittura di ben dieci omicidi, tutti commessi da lui. Con il suo avvocato e il pastore Smith presenti, Eugene confessa anche degli omicidi di cui la polizia neanche ha mai sentito parlare. Fornisce particolari dettagli dei delitti che ha commesso e dice alla polizia dove trovare questi corpi senza vita. Eugene aveva ucciso altre tre donne, i cui corpi vengono scoperti solo alla fine del 1995. L'8 novembre del 1995 i resti ormai scheletrici di Tonya Deans Dunlap, di 24 anni, vengono trovati dalla polizia all'interno o dietro un edificio abbandonato. Il 2 dicembre 1995 i resti ormai scheletrici di Maxine Walker vengono ritrovati in una zona paludosa, sempre a Gary. Eugene confessa inoltre di aver ucciso un uomo che gli si era avvicinato mentre riparava la sua bicicletta, ma il corpo di quest'ultimo non viene mai trovato. Eugene Breit ha evitato la pena di morte grazie al suo basso qui e per le sue disabilità mentali. Tuttavia si dichiara colpevole di tutte le accuse e viene condannato a scontare 245 anni di carcere. Suo padre, Elmer Breit, muore nel 1998. Io ho finito di parlare di questo caso, onestamente ho anche trovato pochi video che parlavano di questo serial, ecco perché ho deciso di portarvi questo video. Fatemi sapere se conoscevate questo caso, se l'avevate già sentito, ma soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso. Come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!